Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, allora è appena finita la finale di Champions che direi per come sono cresciuto io, ancora ricordando la Coppa dei Campioni ovviamente, è l'atto calcistico insieme alla finale dei mondiali più importante del pianeta, non me ne vogliano quelli degli altri continenti ma insomma devo dire che vabbè poi in altri sport c'è naturalmente Super Bowl, Stanley Cup, tutto quello che volete voi però diciamo che la finale dei mondiali di calcio e la finale della Champions League sono credo siate d'accordo un po' come la notte degli Oscar nel cinema, gli atti più importanti del calcio che conta. Ha vinto il Real Madrid, per certi versi a sorpresa, contro il Liverpool, come nel 2018 se non ricordo male a Kiev, ebbene sì a Parigi, ha vinto ancora il Real Madrid. E' stata una partita stranissima perché a un certo punto, insomma la partita l'han fatta agli inglesi. Mi è sembrato un pochino di rivedere, anche se nel nostro infimo livello non fraintendetemi, un pochino quando in pratica fai tu la partita, vedi non so, per dire l'ultimo derby, ogni tanto lo vinci 3-0 come in Coppa Italia e ogni tanto lo perdi magari in due minuti. Perché comunque il Real Madrid ha fatto molto meno del Liverpool, cioè ha badato soprattutto a difendersi, ma questa ragazza è una squadra cinica, una squadra spietata. Ecco io, se dobbiamo parlare di Inter, visto che in copertina avete visto anche un'immagine insomma con la mia Champions che custodisco, riproduzione ovviamente, gelosamente qui in casa, l'ultima arrivata in Italia, quella del 2010, insomma se vogliamo veramente dire che Inter vorremmo invece della pazza Inter, le canzonette, queste cazzate, fuori da qualsiasi logica, ecco io vorrei un Inter come il Real, che magari non è sempre la più forte, però è cinica, è spietata, è fatta di campioni esperti, qui c'è gente che ha vinto credo 5 Champions, adesso mi sono preso degli appunti ma potrei sbagliare, mi correggerete sicuramente. 5 Champions, credo Benzema, Marcelo anche se non ha giocato, Gareth Bale che aveva deciso quello del 2018, ancora contro il Liverpool con una doppietta, Modric, Modric. Vi ricordate quando dicevamo che Milan e Inter prendevamo Modric, noi Luca Modric prendevamo questa 36 anni, vince la quinta Champions League con Real Madrid. Grande serata anche per Carletto Ancelotti, voglio dire che ha vinto praticamente, quest'anno ho fatto bingo perché vabbè la Roma gli ha vinto per il ex romanista, la Conference League, il Milan ha comunque vinto il campionato, un po' a sorpresa come il suo Real la Champions e comunque lui ha vinto in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Italia, in Spagna e l'unico allenatore ad aver vinto in pratica in 5 campionati. Poi mi pare che abbia battuto, perché questa è la sua quarta Champions, mi pare che abbia battuto anche Bob Paisley e Zinedine Zidane che si erano fermati a 3 come Champions. Cioè qui in questo Real Madrid c'è gente, Tancelotti che è un allenatore che va, torna, ma parliamo di quelli che vi ho detto prima, i Benzema, i Modric, cioè qui c'è gente che ha più Champions di società come l'Inter, voglio dire, come la Juve che hanno più di 100 anni di storia, cioè allucinante, Real Madrid 14 Champions. Cioè praticamente sapete il Milan, giustamente, si vantano di averne 7, questi li hanno doppiati, 14 Champions, cosa vuoi dire? No, io dico, vi chiedo che cosa vuoi dire? E che questa volta non puoi neanche dirgli, cioè beh però, perché negli ottavi hanno trovato il Paris Saint Germain, nei quarti il Chelsea, in semifinale il City, finale il Liverpool, cioè adesso han vinto 1-0 col gol di Vinicius sulla distrazione classica del Liverpool, Courtois, Thibaut Courtois, che insieme ad Allison secondo me sono forse i due portieri migliori del mondo, Courtois credo, ho letto una statistica, ha fatto 59 parate in questa Champions che credo sia un record, 9 parate, una smalacciata sul palo, 9 parate soltanto in finale, cioè sì è vero che il Liverpool a un certo punto ha provato l'assedio, però ha trovato un Courtois, ragazzi l'importante, lo dico sempre, lo dico sempre nella mia immensa, scusate se parlo ogni tanto, sportività e riconoscimento comunque nei meriti degli avversari, un po' come il campionato no? l'Inter ha fatto fuoco e fiamme, poi ha avuto quel momento lì dei sette punti in sette partite, l'altro, il Milan è stato più continuo, ha vinto lui in Albodon e andato lui, sicuramente il Real Madrid non è la miglior squadra del mondo, sicuramente, anzi probabilmente il Liverpool è più forte, ma è una squadra spietata, cinica, piena di mamma santissima, di questi vecchi maledetti che non mollano mai, ma lo dico nel senso positivo, in un'ammirazione per il Benzema, per i Modric, addirittura per Marcelo che non ha giocato, ma era lì, che probabilmente non gli rinnovano il contratto, capito, capirai, ripeto ha vinto più Champions di una società, questi sono degli ossi durissimi, ragazzi, quando vedo qualcuno che viene e mi dice, l'Inter dei giovani, bisogna fare l'Inter dei giovani, ma dove cazzo vuoi andare? Poi, ragazzi, è chiaro che in campo c'erano probabilmente, calcolo anche i cambi, quasi 30 giocatori che guadagnano mediamente, più di tutti quelli che dei migliori in Italia, cioè è chiaro che siamo su un altro pianeta, questo è un altro pianeta, però poi anche il Liverpool, ragazzi, il Liverpool ha vinto sei cup di campione, ha perso quattro finali, questa è la quarta finale che perde, c'è incredibile, stavo pensando anche a Courtois, che un po' di anni fa mi pare fosse all'Atletico Madrid e aveva perso contro il Real Madrid, adesso è andato nel Real Madrid e la vinta e voi mi direte, eh vabbè, ma se alleni il Real, eh vabbè, ma se giochi nel Real, ma sono d'accordo con voi, se mettiamo Carletto Ancelotti, con i suoi cinque scudetti in cinque campionati, le sue quattro Champions, lo spariamo alla Salernitano, al Cagliari, come già chi è un po' più anzianotto ricorderà, no? Giovanni Trapattoni, lì è dura, è logico che è dura, è logico che dietro i grandi allenatori ci sono sempre, sempre e comunque le grandi squadre, poi se volete non è stata neanche una finale così spettacolare, però ragazzi che cosa vuoi dire? Cioè io ripeto, cosa vuoi dire anche per il percorso? Torno a dire, ve lo ripeto, perché il percorso è importante, Paris Saint-Germain, Chelsea, City, Liverpool, dagli ottavi fino alla finale, cioè non si può dire che con delle imprese, delle rimonte, ecco come interista, siccome il 7 dicembre ero al Bernabeu, a vedere, eravamo già qualificati con lo scerino, ero andato proprio per godermi lo spettacolo, non credevo che stavo guardando in quel momento la squadra che oltre a battere 2 a 0 l'Inter avrebbe vinto anche la Champions League, non credevo, però anche lì ho capito noi magari come a San Siro abbiamo giocato meglio, Pim Pumpa, come il Liverpool, cioè questi qua sono spietati, sono spietati, abbiamo perso 2 a 0, siamo rimasti in 10 per la sciocchezza di Barella e ragazzi io che onoro lo sport, cosa devo dire? 14 Champions, non ho niente da dire, se non complimenti e se non il sogno un domani chissà quando, ovviamente non con questa proprietà, no ma chissà, chissà se sarà ancora vivo, di avere io non la pazza Inter delle canzonette che chi se ne fotte, ma di avere una squadra che magari non sarà la più forte, ma cinica, spietata, che non ti perdona, come questo Real, e quindi complimenti all'Ancelotti, complimenti al Real Madrid, complimenti a tutti, perché questa è la quattordicesima, ma è una Champions che secondo me i madridisti ricorderanno per molto tempo a Parigi, parentesi, e poi chiudo, partita iniziata praticamente in ritardo di 35 minuti perché da quando sono tornati i tifosi allo stadio io ogni volta vedo che ci sono dei problemi, mi incazzo qui in Italia, ma devo dire che anche a Parigi, una bella figura di merda eh, lasciamo perdere va, perché poi ogni tanto ti viene da pensare che si stava meglio quando c'erano gli stadi vuoti, ma lasciamo stare, complimenti al Real Madrid ragazzi e ci vediamo nei prossimi video editoriale per andare sullo specifico, tanto di Perisic sapete che è andato, poi vi devo fare il pagelo nella stagione, sono tante cose che vi devo raccontare, ma nei prossimi video editoriali in questo era giusto, rendere onore al Real Madrid. Ciao ragazzi.